E' un'altra cosa che non è la mia esperienza, è un'altra cosa che non è la mia esperienza, e penso che è stato un'altra cosa che dico, perché dico, ha detto, che io sono stato scicciato da direttori, da direttori, quando mi inventano le strada, nessuno, io, nessuno sono stato un'altra cosa che non è la mia esperienza, non è la mia esperienza, e quindi se non si riesce, 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 non si riesce Io sono cercato di disfaccare che con i tuoi cammini da lì, poi siete pure, io non c'ho nulla per me, non si viene pegata. Non si vede a guardare a quel momento. Sono un parco personale, le persone che faccio andare bene. Già la conosciuto. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.